uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xiodarone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xiodar e ragazzi sfida dei 14 giorni di fortnite di oggi fare dei trick con un drift board che sarebbe in realtà la tavola da surf con applicata sopra la skin neon tropicale quello che abbiamo sbloccato in poche parole qualche giorno fa nelle sfide 14 giorni di fortnite un consiglio proprio per fare subito i punti come avete visto ero allo spot dei drift board dove c'è praticamente la il circuito vicino qua dove è lo spot vicino a crocivia del charpame da lì ragazzi venite giù via dritti fino a questa piattaforma che è quella vicino al boschetto basta solo che vi mettete dentro la piattaforma aspettate che vi porti su e cominciate molto easy a fare dei trick utilizzando il vapore una volta che ne avete fatti basta solo che atterriate perfettamente dritti e come vedete i trick sono tantissimi adesso abbiamo quasi fatto 600 mila punti una cosa davvero semplicissima che vi permetterà di sbloccare lo spray di oggi io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al channel noi ci vediamo fra poco in live ciao 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 ciao